Musica Ci troviamo sul canale di Enza, all'altezza di San Polo, siamo in località dei 60. Questi edifici rurali, molto interessanti dal punto di vista tipologico, sono stati costruiti lungo il tracciato del canale, a ridosso, e ancora queste aperture danno direttamente sul canale. Questo edificio, molto probabilmente, costituiva il corpo di fabbrica di un mulino, alimentato ovviamente dalle acque dell'Enza tramite il canale, che doveva avere una ruota verticale. Al contrario di quello che succedeva in montagna, dove l'alveo molto ristretto dei torrentelli che alimentavano i mulini, non consentiva il posizionamento di grandi ruote verticali di legno, e quindi i mulini in montagna hanno le ruote orizzontali, all'interno della fabbrica del mulino, in pianura cominciavano, vista l'ampiezza dell'alveo, a essere alimentati con le ruote verticali. Grazie